E ci risiamo, ogni anno a Venezia è la solita litania, il degrado, troppa gente, quello che si lava, si fa la barba nel rio, è quell'altro che si butta nel canal grande, è quello che gira a torso nudo, è quello che si sdraia per terra, è quello che la fa sotto il ponte, ma c'è da stupirsi? Ci sono 28 milioni di turisti l'anno, è un porto di mare Venezia, fanno entrare tutti e di cosa si può poi lamentare se non si arriva ad un provvedimento drastico di limitazione di questi flussi? Non si cambia, non si può sperare che qualcosa migliori, anzi peggiorerà in continuazione perché la sua città si sta imbarbarendo, arrivano cani e porci per dirla in maniera molto esplicita e fanno ciò che vogliono, quindi Venezia è diventata una latrina, è un museo a cielo aperto, dovrebbe essere rispettato e invece è come avere degli elefanti nei negozi di cristalleria, cioè una massa enorme di gente che si riversa i calli e i campielli tutti gli anni è ancora sempre la stessa storia e poi ci sono le lamentele, ma non cambia nulla finché il numero di questi turisti, di questi visitatori, dei tavolettari, dei vucumprà, di quelli che vengono anche a delinquere perché adesso ci sono anche rapine, oggi ho parlato con un'aurefice che era stata appena ripulita da due ragazzi dell'est che poi se ne sono andati, scappati di corsa e chi li ha visti li ha visti, non si può continuare a lamentarsi di questa situazione se nessuno fa niente e se questi flussi rimangono immutati, si spera che il sindaco Brugnaro qualcosa faccia, ma è mai possibile che negli Stati Uniti si va a vedere, faccio un esempio, California, piccolo geyser che sputacchia ogni 10 minuti, cioè praticamente ti siedi attorno in un piccolo anfiteatro a questo buco e ogni tanto c'è un fiotto di aria calda, di acqua calda, prezzo 10 dollari a visitatore, dico qui invece si entra praticamente gratis, si fa ciò che si vuole, non ci sono panchine, non c'è un minimo di decoro urbano, non c'è un posto in cui sedersi, allora la gente si sdraia per terra, mangia per terra, che cos'altro dobbiamo dire? Sono anni che lo diciamo e non si muove un dito salvo poi fare questi pianistei e queste tragedie greche, andrà avanti così, sarà sempre peggio e alla fine avremo anche qualche problema in più quando questa città elegante e terribilmente ferita per la sua fragilità a un certo punto collasserà e quindi assisteremo anche a fatti ben più gravi dei venditori di borse contraffatte che scappano e che travolgono la gente.